Guarda ti dico che secondo me è da provare poi sul bagnato perché parlavamo di una scarpa da usare nel periodo invernale, questo qua potrebbe fare al caso nostro. Se dovessi darvi una ragione per comprare questa scarpa, e immagino che sappiate di quale scarpa si tratti, non soltanto per la silhouette, per il logo, forse anche soltanto per la musichetta, volutamente cupa dal titolo The Ghost. Dopo le vacanze estive, Bruce ha in effetti rilasciato questo modello Ghost 13 che è la versione più apprezzata della scarpa migliore dell'azienda di Seattle. Azienda molto focalizzata sulla corsa con l'obiettivo di raggiungere il miliardo di fatturato, ci stanno tra l'altro andando davvero vicino perché per esempio durante la pandemia sono cresciuti di oltre il 20% ed ora sono già a 750 milioni di dollari. Sono al secondo posto dietro Nike ma davanti ad altri colossi come New Balance, Adidas, ASICS e Under Armour, ovviamente stiamo parlando degli Straits. Full disclosure, questa Ghost 13 era il mio regalo di compleanno per Andrea, poi purtroppo la scarpa è rimasta qui da me perché dovevo fare il video, ad ogni modo nei prossimi giorni spero proprio di potergliela consegnare. Siamo tra l'altro arrivati quasi alla cinquantesima recensione di scarpe, non potevamo fare che questa nobile scarpa e questo marchio davvero famoso, se vi posso dare un consiglio iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni e attivate anche pure le notifiche. Se siete interessati comunque guardatevi il video fino alla fine per vedere anche l'opinione di Andrea che un mese fa era qui da me spensierato e gioioso. E voi mi direte ma tu che ne sai di Brooks dovete sapere che comunque nel mio passato glorioso di recensore ero responsabile editoriale del sito The Running Pit e ho recensito con altri amici diversi modelli di Brooks tra cui le Ghost 12 e le 11. Quest'ultima tra l'altro è stata la recensione più vista del sito nel 2018. E qual è la value proposition di questa Ghost 13? Il marketing di Brooks, marketing sempre importante, parla del giusto compromesso tra reattività e morbidezza. La Ghost 13 è comunque una scarpa dal prezzo adeguato alle caratteristiche che offre ed è destinata per tutte queste ragioni ad essere non soltanto la più cercata ma anche la più comprata. Più comprata non solo online ma soprattutto nei negozi visto che Brooks fa affidamento a del personale esperto, più esperto di me, che vi possa raccontare in dettaglio quali sono le caratteristiche di questa scarpa. Vi metto qua sotto la lista dei negozi e se qualcuno fosse interessato anche dei link online per eventualmente effettuare l'acquisto. Ma senza divagare ulteriormente vediamo quali sono le caratteristiche di questa Ghost 13. La prima cosa da sapere è il famoso Drop 12, sì avete capito bene, e qui dovrei aprire una parentesi perché l'azienda parla di Run on Science ma lo farò solamente prossimamente. 32 mm nel tallone, 20 mm nell'avampiede, le specifiche tecniche sono davvero di materiali di grande qualità. Partirei però col dichiarare il peso che è diminuito ulteriormente negli anni e continua a diminuire. Vi metto in sovraimpressione quanto pesavano le Ghost 8, 5 anni fa eravamo a 325 grammi, l'anno scorso a 295 con le 12 e ora ci avviciniamo ai 280. Questa però è la versione 9.5 US quindi non 9, non quella ufficiale perché è la scarpa di Andrea. Sappiate che il modello ufficiale US 9 parla di 286 grammi ma in realtà dalle nostre misurazioni pensiamo che sia intorno ai 278-280 grammi. Nella Tomaya Brooks usa una tecnologia che si chiama 3D Fit Print con la quale scoprirete davvero una morbidezza eccellente. Interessante sapere che fino alla versione 11 era molto più traforata ma credo che ora la sensazione al piede sia migliore. Toccando la con mano si capisce che la Tomaya è davvero molto soffice anche se sto morendo dal freddo ma al tempo stesso un po' meno traspirante rispetto ai modelli precedenti. I lacci in questo caso sono rotondi, due anni fa erano piatti, la linguetta invece si appoggia delicatamente e piacevolmente sul collo del piede. Sappiate che non si sposterà lateralmente perché una banda verticale azzurra consente di tenere allacciati e ben fermi i lacci, consente di far passare i lacci all'interno e tenere tutto il sistema fermo. E qui veniamo alla ragione che spiega perché questa scarpa è tanta amata, così amata da avere tantissimi fan. È la calzatura che forse non ha le componenti di migliore qualità ma ha un'armonia che raramente ho visto in altre scarpe. Nella parte anteriore troverete un ampio spazio per le dita del piede ma nonostante il piede sia davvero libero resterà comunque anche coccolato dalla Tomaya particolarmente soffice. Tomaya che però è rinforzata nella parte anteriore quindi questo garanzia di qualità e comunque di durata. Infine il tallone super confortevole imbottito al punto giusto ma soprattutto senza bisogno di arretrarlo consente sia di avere il tenere d'Achille a suo agio ma al tempo stesso il piede bloccato per correre relativamente e velocemente. Gli elementi riflettivi sia nell'avampiede sia nel tallone permettono poi di affrontare queste giornate particolarmente brevi ed essere più al sicuro durante una corsa notturna. L'intersuola è invece costituita da due mescole, la DNA Loft che prima era solo nel tallone ma che con la versione 13 si estende pure fino all'avampiede. Questa mescola molto morbida al tempo stesso consente di non avere un peso davvero eccessivo. Per rendere però la scarpa più efficiente e reattiva ma sicuramente non così reattiva almeno a giudicare dai dati e dagli standard 2020 è stata aggiunta una mescola ulteriore biomogo DNA che aggiunge sì reattività ma al tempo stesso anche un pizzico di ecologia. A livello di suola invece troviamo parecchia gomma, tantissima gomma praticamente su tutta la superficie. E qui nasce il dilemma del geek che dentro di me preferisco la gomma che appesantisce la scarpa o la sua mancanza che la rende incapace di gestire situazioni estreme come quelle di oggi. Tenete comunque conto che la gomma è più morbida nell'avampiede e invece più dura sul tallone. Come la tradizione Gosta, devo comprare comunque un durometro per misurare correttamente i dati ma non ho ancora deciso quale. Il design asimmetrico e l'ampiezza dell'avampiede favoriscono una corsa piacevole, una transizione efficace e una stabilità raremente vista su una scarpa neutra. Concludo comunque la mia parte con due considerazioni. La prima relativa a perché questa scarpa, domanda che abbiamo già posto all'inizio, è così amata dai podisti italiani. Sappiate che la scarpa è così armoniosa, non ha davvero secondo me punti deboli, un prezzo adeguato e una capacità di durare relativamente a lungo. Ne parleremo nella recensione completa tra un mese, la seconda domanda invece è più complessa e mi pongo la questione del perché molta gente preferisce invece spendere 30 euro in più per passare al modello premium Glycerin. Tra l'altro ricordo che io sono contrario a suggerire di correre con diverse marche al podista amatore. Vi darò una risposta in un prossimo video, soprattutto se questo raggiungerà le 5000 views. Sappiate comunque che molti dei podisti che ci seguono e che mi contattano anche su Instagram sono soprattutto interessati alla morbidezza di cui la Glycerin è sicuramente l'essenza. Ora vi lascio ad Andrea che un mese fa qui dal mio giardino di casa mi ha raccontato quali sono le sue prime impressioni. sappiate che non vedo l'ora di incontrarlo perché nei prossimi giorni gli regalerò la scarpa che acquisteremo per il regalo che ci avete fatto by me a coffee, manca davvero poco per raggiungere la cifra necessaria. Se non dovessimo arrivarci il resto lo metterò io, nel frattempo lascerò la parola ad Andrea e ci vediamo alla fine. Ciao Andrea, ciao Max, sto girato così, mi si vede di profilo, sono bello. Oggi hai provato per la prima volta le Ghost 13 sul tapirulan, va bene, non è la stessa cosa, ma cosa ne pensi? Allora, diciamo che per chi ama le Ghost è la solita scarpa, diciamo, quindi mantiene le solite caratteristiche di ammortizzazione e di protezione. Io non la trovo una scarpa dinamica, la trovo, e anche su questa non la trovo molto dinamica, la trovo comunque una scarpa da lento e da riposo. E sul tapirulan come l'hai vista? Guarda, ti dico che secondo me è da provare poi sul bagnato, perché parlavamo di una scarpa da usare nel periodo invernale, questo qua potrebbe fare al caso nostro, ha una tomaia abbastanza importante e ha un buon battistrada, che ormai stavano perdendo su tutte le scarpe, invece loro l'hanno mantenuto, bisogna capire davvero sul bagnato come si comportano, ma più che sul tapiro vorrei provarle sul bagnato o sulla neve, che secondo me ci danno soddisfazione rispetto ad altre scarpe. A livello di protezione cosa dici? Guarda, a livello di protezione la Ghost, per chi l'ha provata, sa cosa sto dicendo, è una scarpa che è abbastanza durina, ma non scomoda, si sente l'ammortizzazione, ma non è, per dire, soffice come se fosse una Rincon, per dire. È proprio una scarpa da lento che ci accompagna nelle nostre corse da lente, è un po' come chi l'ha provata, se non la New Balance 1080, è una scarpa comoda, non reattivissima, ma che fa il suo lavoro, diciamo, egregiamente, alla fine sono anni che è fuori, poche migliorie, credo, fatte apposta da Brux, diciamo, scarpa che vince non si cambia, e questa qua è la filosofia della Ghost e della Glycerin, praticamente. Le useresti nel periodo di lockdown? Oh, assolutamente sì, in questo periodo d'inverno dove devo fare tanti lunghi, dove farò tante corse lente, lunghe, questa qua è una scarpa super adatta. Va bene, nelle prossime settimane faremo la recensione completa, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Speriamo che non piova, ma se pioverà, le proverò sul bagnato e vediamo come si comportano, ma sono molto positivi. Ciao a tutti! Ciao! Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, parlo di tutto quello che riguarda il mondo della corsa, la tecnologia, le scarpe e, in generale, gli allenamenti. Oggi ho lasciato il mio coniglio all'interno della sua casuccia al calduccio. Spero di incontrarvi presto, nel frattempo stay strong, keep running se potete e ci vediamo alla prossima. Spero di incontrarvi presto!